C'è tanto Faina la sfida, quindi il Masseo, il presidente dei Redlock, si schiera con gli Eternals e sarà lì insieme a Zetamu. Da Coppola si chiude la difesa della fucina, si strisce. Ho capato! Ho capato! Nardone! Ce lo vedo teso, attenzione, parte, pata! Mamma mia! Soccarta da parte dei Reds e degli Eternals. Vabbè, tanto è uguale. Doppio cartellino rosso. Gunter! Gunter, Gunter! La palla che viene... Mamma mia, Nardone! Vediamo se vede il Montaperto, ci arriva Montaperto, palla in mezzo! Salva tutto Mario! Grazie, Falco! Il mecenate, Falco! Guarnaccia! Gunter, Gunter, Gunter! Pici ancora resiste! È lungo Pici, mamma mia! Gladiatore, dà un pugno in faccia a uno Pici. Devastante, finisce l'effetto della carta. Finisce l'effetto della carta. Ma va, non c'è niente. Attenzione, Varda, parte del Masseo. VAR, perché? Perché forse dovrebbe essere una comitata e quindi potrebbe esserci il rosso. Non usa il braccio come arma, ma usa il braccio come oggetto e quindi ammunizione. Che cazzo si fa? Mi sa che era stato ammunito prima. Ammunito. Attenzione, cartellino blu. Per il loco? Per il loco Pici. Nel periodo non collegato. Jay Pata, da lì può inventare. Attenzione, il numero 10. Jay Pata, lato corto. Pata! Nardone! Con nulliti! 3 contro 3 o 4 contro 4? È uscito 3 contro 3 intanto. Sappiamo che è Mancino, Bobby. Bobby per Nardone. Questa volta ha lo spazio. Occhia a Rizzini! Rizzini! La parata! La squadra di Jay Pata, che pressa tutto campo. Rizzini! Non deve avere fretta la fucina. È buona! Pallone! Bello! In mezzo! Con Anchi di nuovo! Cazzo roglie! Attenzione. Attenzione, carta da parte della fucina. Rigore, roulette. Io vorrei far battere lo shout out al capitano. Falco. Il Falco. Parte Mario Ferri. Falco contro l'MVPD. Oggi con Naghi. Volco con Naghi di nuovo! C'è la messa lì. Nardone. Lancio per Pici. Pici che cade a terra. Stavolta è fallo e da lì. Attenzione. Parte Pici. Pici. Pici! Al giocchio Giulio Pici! L'eroe! La decine a lui! È l'occo Pici! Occhia Coppola. Parte Coppola! Nell'ancolino Coppola! 1-1! Per te Barri. L'inferno! È 1-1! L'inferno per la fucina, signori. Masseo, tutti ad esultare. E sarà Sisal Fan Club. 1-88. La risposta è esatta. Attenzione. Allora decide la fucina. Shout out! Parte il numero 7 degli Eternals. Ancora Coppola, Coppola, Coppola! Coppola! Parte Salmato. Contro l'MBP di oggi. Colnaghi. Salmato! Sì! E la mente dentro! 2-2! Brivio. Con il suo mancino, Brivio. 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 Brivio! Nardone! Si potrebbero ripetere. Va Lama, un tocco. Vediamo se si ripete Lama. Il Lama! Si è ripetuto il Lama! Va Gunter. Gunter contro Nardone. Gunter dove va? E finisce qui! Nardone! E la fucina! E in semifinale! Eroico Nardone! Giorgio Nardone nazionale! Incredibile! Aio!